Il video? Eh... Oh ma cos'è un video? Non riesco Tricerfixes In your mind bitch Your fucking face oh ma che l'ai un video ma che stai a fare un video ciao ciao italia italia 1 1 porco di questo tipo che mi fa ruoter il culo quel buzolente vecchio di merda mi sa che è arrivata ora che te confessi stavo pensando io capire capite la sua cara completamente piena di scritte ma voi forse anche di più per me non ci stavo, guarda giù il mondo cani d*** non c'è una m***a uffa carico di diverso proprio si 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 se passasse una m***a canzone oh 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 no oh ok ma cos'è un video This is a new song from our first album It's called Vagina Murder and God I'm a real boss Like you, you don't know I guess I'm so cool We're the one to break the silence 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 We're the one to break the silence